Ciao a tutti, ben ritrovati, leggiamo il testo di questo programma assegnato alla Facoltà di Ingegneria Energetica ed Elettrica all'Università della Sapienza di Roma il 16 giugno del 1999. Vedete il testo, l'aria contenuta all'interno di una stanza di volume V pari a 75 metri cubi chiusa con parete di abati che può essere considerata come un gas perfetto biatomico alla temperatura T di 25 gradi centigradi alla pressione P di un'atmosfera. Essa viene riscaldata fornendo una quantità di calore Q tale da aumentarne la temperatura di delta T pari a 5 gradi centigradi. Determinare l'innalzamento di temperatura che si avrebbe nel caso in cui a parità di calore fornito Q fossero presenti nella stanza anche 20 litri di acqua in equilibrio termico con l'aria. Problema non per la verità difficilissimo, tutt'altro. Andiamo a scriverci i dati di questo problema che evidentemente va risolto direi in due fasi considerando cioè l'assenza dell'acqua nella stanza e poi la presenza dell'acqua nella stanza. Direi di scrivere il dato 1 che è quello del volume della stanza di 75. l'aria contenuta all'interno della stanza, il volume è 75 evidentemente metri cubi. Dato numero 2 è la temperatura del gas perfetto biatomico T di 25 gradi centigradi. Quindi la pressione P è, ce lo dicono, di 1 atmosfera. Dato numero 4 poi l'aumento di un delta T di temperatura, delta T è 5 gradi centigradi. Direi che tenendo conto di quello che abbiamo detto possiamo iniziare a risolvere. O, applichiamo ovviamente, studiamo la situazione nella stanza senza la presenza dei ventesi d'acqua. Evidentemente visto che parliamo di un gas perfetto biatomico io calcolerei il calore, il calore ve lo ricordo è N, Cv, delta T. Ora, non abbiamo N. Per calcolare N io tenerei presente che vale, come sempre, l'equazione di stato dei gas perfetti, Pv uguale a nRT. Eccola qua. Dalla quale mi calcolerei il numero dei moli. Quindi dividendo per RT, il calore ve lo ricordo è N è P per V fratto ovviamente RT. Facciamo solamente attenzione, prestiamo solo attenzione ai valori. Perché P evidentemente è una atmosfera. V passerei da metri cubi al litro, basta moltiplicare per 10 alla 3. Quindi è un, siccome ci parlano di 75 metri cubi, 75 per 10 alla 3 litri. Oh, attenzione solamente a la costante universale dei gas che è R, che possiamo esprimere come 0,0821 atmosfere per litri fratto moli gradi centigradi. Questo valore lo moltiplichiamo per 25 gradi centigradi. Gradi centigradi, gradi centigradi, se ne vanno atmosfere qui, con atmosfere qui se ne vanno, litri con litri se ne vanno. Vedete che otteniamo 1 fratto moli che appunto è moli. N è il numero di moli. Se fate questo conto, ottenete circa un 3067 moli. Valore che ci serve per andare appunto qui nella formula poi risolutiva che ci serve, cioè il calore che andiamo a calcolare, la qualità del calore che viene introdotta, no? Q e ripeto N, Cv, delta T, dove evidentemente N è 3067 moli. Evidentemente C con V è, Cv ve lo ricordo, e in questo caso ci parlano di gas perfetto biatomico 5 mezzi di R, dai dati che io non ho scritto nei dati, né questo valore, nei dati manca Cv uguale 5 mezzi di R, dato 5, dato 6, i ventiliti d'acqua. Quindi 3067 moli per evidentemente 5 mezzi, per R che rimetterei come 8 e 314, evidentemente Joule fratto moli Kelvin, e qui ovviamente moltiplicherei per 278,15 Kelvin, sperando che si veda, quello è un 278,15 Kelvin. Kelvin e Kelvin se ne vanno, moli e moli se ne vanno, otteniamo circa, ve lo dico subito, un 3,19 per 10 alla 5 Joule. Questo è il calore in assenza, il calore che viene, la qualità del calore che viene introdotta nella stanza senza l'acqua. Ora, ovviamente però, con la presenza dell'acqua, chiaramente con l'acqua, il calore, che ci parlano di calore fornito, qui il calore però, un attimo, a noi ci chiedono l'inalzamento della temperatura, o calcoliamo di nuovo il calore introdotto nella stanza, il calore che, la qualità di calore che, ovviamente, noi dobbiamo fornire con la presenza dell'acqua, cioè Q in questo caso, sarà sempre, chiaramente, Ncv ΔT non cambia, ma ΔT, fatemi scrivere, è un ΔT'. Poi però c'è anche la massa da aggiungere a questa formula anche, la massa dell'acqua, mc ΔT', cioè, massa d'acqua per il calore specifico dell'acqua, per ΔT', dove ΔT', chiaramente, noi non lo conosciamo, noi non lo conosciamo, quindi, evidentemente, dobbiamo prestare molta attenzione, chiaramente, prima, il ΔT era 5, ho sommato a 2,7,3,15 e ho ottenuto 2,7,3,15. Qui, attenzione, se raccogliamo, quindi, ΔT'', chiaramente, Q è sempre lo stesso, a parità di calore fornito, quindi, evidentemente, raccogliendo ΔT'', a fattore comune, otteniamo un Ncv più massa dell'acqua, calore specifico dell'acqua, tutto uguale al calore Q, che è sempre quel 3,19 per 10,5 joule, direttamente, quindi, ecco il nostro rinnazzamento ΔT'', un nuovo ΔT, che sarà, evidentemente, pari al calore Q, tutto, evidentemente, fratto, questa somma, Ncv più M dell'acqua, per il calore specifico dell'acqua. Evidentemente, il calore specifico dell'acqua è 4,187 joule, se volessi mettere un N joule, N, abbiamo detto chi è, abbiamo calcolato prima, Cv e 5,5 R, la massa dell'acqua ce la danno a questo 20 litri, quindi, se fate questo conto, ottenete circa 2,16 gradi centigradi. Molto facile questo problema, interessante, abbiamo risolto facilmente anche questo problema. Ciao a tutti!